Mettere in sicurezza le chiesette rupestri di culto bizantino, Dessa Itria e quella di Iacupiu, che sorgono sull'orto bene, e avviare l'Iter per il riconoscimento quale monumento natonale, Dessa Preda, anche questa sul monte. È il nucleo di una proposta che il gruppo sardista in Consiglio Comunale a Nuoro avanzerà il 13 marzo in occasione della riunione dell'Assemblea Cittadina. In una nota firmata dai consiglieri comunali Adriano Catte, Graziano Siotto, Viviana Bravo e Claudia Camarda, si ricorda che il gruppo ha rivolto il proprio sguardo ai temi dell'identità, della storia della religione e ambiente, nell'ambito della riqualificazione e salvaguardia del monte orto bene. La chiesetta di Saitria spiega una nota e l'unica che, oltre alle Cumbesias, le cellette dei Novenanti, possiede ancora integro uno dei tanti archi che la donnavano internamente, ma che oggi, nonostante le segnalazioni, si ritrova pericolosamente aggettante verso l'esterno e a rischio crollo. La seconda, quella di Iacupiu, presenta pericolosi crolli murari ed edifici ancora semi interrati a poca distanza. Per entrambe le chiese, i sardisti chiedono l'attivazione di un tavolo operativo, composto da comune, provincia e regione, e dalla sovraintendenza, al fine di metterle in sicurezza e successivamente valorizzarle. A questo intervento, i sardisti affiancano la proposta di deliberare il riconoscimento quale monumento naturale, ai sensi della legge regionale 31 del 1989 di Sapreda, detta anche Sonnodos dell'Allanu, un affioramento granittico in località Saesos Flores, caratterizzato da decine di alveoli che lo rendono oggi metà di turisti, escursionisti e appassionati di fotografia. L'avvio dell'ITAR da parte del Consiglio Comunale consentirebbe, concludono i sardisti, di arrivare a stretto giro a riconoscimento ufficiale all'insedimento di Nuoro, fino ad oggi esclusa nell'elenco dei territori ospitanti uno dei monumenti naturali della Sardegna.